Incidente questa mattina ad Eboli sulla SP30 nei pressi di Santa Cecilia. Due auto si sono scontrate nel corso di un sorpasso per cause ancora in corso di accertamento. Una delle due si è ribaltata a seguito dell'impatto. Due le persone che hanno avuto la peggio a seguito dello scontro. Entrambe hanno riportato una serie di traumi per fortuna non gravi. Sul posto i volontari del 118 e i carabinieri della compagnia di Eboli per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro. Dai primi elementi raccolti sul posto sembra che le due macchine viaggiassero a velocità piuttosto sostenuta.